Non si spengono le polemiche all'indomani di un'assise civica a dir poco infuocata con la maggioranza di centro-sinistra nel caos. Una seduta del Consiglio non priva di colpi di scena con il ritiro delle deleghe da parte del primo cittadino Luigi Brasiello, il documento dei dieci eletti della maggioranza e il Consiglio Comunale aggiornato per mancanza del numero legale. E' questo il quadro emerso nell'ultima riunione dell'assise civica. Il documento è stato letto da Davide Avicolli, capogruppo di Sernia di Tutti, che ha evidenziato il malcontento e la delusione di natura amministrativa. Nello specifico i consiglieri di maggioranza hanno contestato il modo in cui l'esecutivo sta governando la città con alcune scelte ritenute spesso sbagliate dal punto di vista metodologico e talvolta persino nel merito. In aggiunta all'opposizione che chiede le dimissioni del sindaco Brasiello, definito incapace di trovare soluzioni alle problematiche dei cittadini. Guardi, questi sono i malcontenti e tutto ciò che noi abbiamo detto, rivendicato in questi anni, abbiamo sollevato questi problemi già dal primo Consiglio Comunale. Abbiamo dato anche la collaborazione all'amministrazione, al sindaco. Abbiamo detto, al di là di tutto, noi non vogliamo incarichi giunta, non vogliamo nulla, vogliamo fare un accordo di programma. Individuiamo dieci, cinque, sei, sette punti all'ordine del giorno, studiamoli, di modo che li portiamo avanti, senza alcun interesse, senza alcun altro interesse di poltrone e niente. Siamo disponibili. Questa nostra richiesta è stata ignorata del tutto. È stata ignorata. Ma di che cosa parliamo? È la prima volta, io sono 40 anni che sto al Comune di Sene, le posso assicurare, ma anche prima, è la prima volta che l'80% dei dipendenti firmano una mozione, delle rivendicazioni al sindaco e all'amministrazione, lamentandosi di come vengono trattati. Il che vuol dire, la dice lunga, e badate bene, l'80% dei dipendenti hanno sottoscritto quel documento, che sono le dichiarazioni programmatiche che avrebbe dovuto fare il sindaco. Mi dice come fa un'amministrazione a lavorare se i dipendenti non sono sistemati come si deve? Il sindaco ha preferito non rilasciare dichiarazioni, ha affidato il suo pensiero a un comunicato stampa. Tre le ragioni che lo hanno portato a ritirare le deleghe, la prima di carattere politico, la seconda lo scopo di rideterminare e ricalibrare le deleghe revocate, la terza per dare nuovo impulso e rilancio all'attività amministrativa. Intanto, le deleghe, ha fatto sapere il primo cittadino, saranno riassegnate solo dopo la concreta attivazione e il definitivo perfezionamento della riorganizzazione dei servizi dell'ente.